cari aspettatori e cari ascoltatori eccoci per un'altra puntata dedicata alla didattica a distanza di italiano di quinta allora andiamo a continuiamo con il nostro esame delle opere del grandissimo Giovanni Verga e oggi appunto introduciamo il primo racconto oggi siamo abbastanza breve perché è giusto un'introduzione poi i miei studenti dovranno leggere l'opera per i fatti loro e anche dirmi cosa ne pensano possibilmente e iniziamo ribaltiamo diciamo così un po quello che c'è sul libro perché solitamente si propone di leggere prima la prefazione all'amante di Gramigna che è quella in cui Verga sostanzialmente descrive qual è il suo stile e poi si iniziano a leggere le novelle ecco invece invertire la cosa prima leggiamo la novella ci immergiamo non la leggerò tutta appunto adesso la lezione adesso qui darò l'introduzione spiegherò due tre cose e poi dopo i miei studenti leggeranno la novella per i fatti loro e anche perché è abbastanza lunga e non so se riuscirei a starci in questi 40 minuti e poi andremo poi a vedere a quel punto la sua dichiarazione di stile ecco il titolo della puntata appunto è vita dei campi che è la prima raccolta di novelle che fa in realtà non è la prima perché prima c'era una raccolta che primavera e altri racconti e poi abbiamo finalmente vita dei campi cioè veramente la sua raccolta con otto novelle dedicate per l'appunto alla alla descrizione appunto ambientale verista della della sicilia dei suoi tempi eh fra l'altro sono novelle preparate in breve tempo fra l'agosto del 78 1878 e luglio del 1880 eh che escono su varie riviste varie prodici questo qua è un'epoca in cui si scrivono racconti per la pubblicazione sulle riviste sui giornali e sui settimanali e perché ti pagano appunto per la la pubblicazione e poi vengono eventualmente raccolte in volume come appunto farà eh verga in questo caso con vita dei campi che esce a milano esce dall'editore traves di milano nel 1880 eh rivista è corretta nel senso che verga lavorerà tantissimo sulle novelle già uscite sulle riviste per sistemare eh questo stile appunto verista che che emerge ecco perché noi leggiamo le novelle nella versione uscita nel volume e non le novelle nella versione uscita nei periodici benissimo e allora eh più o meno quello di cui parlano le novelle l'abbiamo già visto abbondantemente eh e quindi io vi porterai direttamente eh insieme a appunto tutti insieme a leggerci l'inizio di Rosso Malpelo attenzione ai miei studenti Rosso Malpelo è presente anche sul libro di testo peccato che Rosso Malpelo sul libro di testo sia solo la seconda parte e secondo me eh la parte veramente eh straordinaria che ci fa capire che cos'è stato il verga narratore è la prima quindi in realtà cosa bisogna fare andare su internet tanto verga eh non ha più copyright è libero al diritto d'autore andare su a cercarsi la tutta quanta la novella Rosso Malpelo leggersi la prima parte online senza note perché ovviamente senza note quando si vede che si arriva al punto che è descritto sul vostro libro si va avanti direttamente dal libro perché ogni tanto comunque la noticina che ti descrive meglio il eh ti descrive meglio il termine dialettale o descrive meglio insomma quello che c'è scritto aiutano sempre fanno sempre piacere attenzione perché anche la parte sul libro continua ad avere delle elissi ricordo a tutti che le elissi sono indicate con tre puntini fra due parentesi quadre ecco anche in quei casi fatemi piacere di tornare in internet e leggervi anche la parte che il vostro libro ha pensato invece di tagliare quindi per favore leggetevi tutta quanta la novella magari tenendo appunto da una parte la versione online e dall'altra quella che avete sul libro ma leggetela tutta perché merita io questo fatto che tagliano e sminuzzano le novelle non è che mi piaccia così tanto comunque va bene andiamo a leggere l'inizio di Rosso Malpelo e ricordiamoci quello che si è detto nelle scorse lezioni cioè che il narratore non compare e che l'opera arriva come se fossimo uno degli abitanti di questo paese di questo villaggio che stiamo descrivendo ovviamente avete sentito questa stessa novella in parte anche nel documentario che vi ho dato dimenticatevi che io come l'attrice bravissima faccia l'accento siciliano o altre cose del genere so che sta malissimo l'accento bolognese a leggere di cose siciliane ma accontentatevi è quello che vi hanno portato i che vi avete trovato a scuola insomma ma il pelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di nescire un fior di birbone sì che tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano malpelo e persino sua madre consentigli di sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo del resto e là lo vedeva soltanto il sabato sera quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi nel dubbio per non sbagliare la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più e in coscienza erano anche troppi per malpelo un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti e che tutti schivavano come un cane rognoso e lo accalessavano coi piedi allora che se lo trovavano a tiro egli era davvero un brutto ceffo torvo ringhioso e selvatico al mezzogiorno mentre tutti gli altri paesi della cava si mangiavano incocchio a loro minestra e facevano un po di ricreazione egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe per rosicchiarsi quel po di pane bigio come fanno le bestie sui pari e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo gli tiravano dei sassi finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata lei ci ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio senza osare dilagnarsi era sempre cencioso e sporco di rena rossa che la sua sorella se l'ha fatta sposa e valto per il capo che pensare a ripulirlo la domenica non di meno era conosciuto come la bettonica per tutto monserrato e la caverna tanto che la cava dove lavorava la chiamavano ormai la cava di malpelo e cotesto al padrone gli seccava assai insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro misciu suo padre era morto in quella stessa cava avete cioè è sui spero di aver letto adeguatamente avete sentito che leggendola questo malpelo ci sta antipatico anche a noi però poi accendiamo un attimo il cervello ma questo malpelo perché è così cattivo ma poi è veramente cattivo allora è cattivo ci dice all'inizio perché c'ha i capelli rossi e quindi per noi popolani noi che guardiamo sto tizio qua deve essere per forza cattivo c'ha i capelli rossi e se c'ha i capelli rossi sei cattivo sei malvagio se uno di cui non ci si deve fidare il tuo amato sua madre non si fida di lui sua sorella che prende i soldi poi dice quali te sei tenuti per te quanti ne hai nascosti e giubbotte e però il padrone della cava ha detto che in realtà tutti i soldi guadagni e li porta a casa ma giubbotte lo stesso perché infido c'ha i capelli rossi e poi e poi questo malpelo nessuno lo vuole vicino e quindi cosa fanno per tutti a sassate lo per tutti a calci abbassa e lui non si lamenta ma uno che cresce così come deve essere è già molto che non si lamenta non so se mi spiego cioè la grandezza di verga è che riesce a far vedere attraverso gli occhi della visione popolare micidiale una roba micidiale una roba che ti stigmatizza per un tratto fisico una roba che ti stigmatizza per una per una diceria tra poco studieremo anche pirandello una delle prime anzi la una delle prime romanzi di pirandello è l'esclusa pirandello anche lui siciliano e la cosa penso che c'entri esclusa una donna che tutti dicono ha fatto le corne al marito e tutti la trattano come avesse fatto le corne al marito e come va a finire che fa veramente le corne al marito ecco la potenza della dello stigma sociale oggi si chiama cyberbullismo scriviamo che quella persona è facile perché tanto il 50 per cento il cyberbullismo gira sempre su sta cosa qua diciamo è quella persona è si concede diciamo è quella persona eccetera eccetera e anche se non è così la forza lo stigma popolare è talmente grande che ti segna la vita non lo so se pensavate che si potesse passare da rosso marpego al cyberbullismo ma noi leggiamo letteratura anche per questo sono cambiati i mezzi ma non è cambiato un certo tipo un certo modo di comportamento che che si creda ecco la grandezza di verga è questa ci immerge in quelle persone e ci immerge talmente bene che dobbiamo fare uno sforzo cerebrale per dire aspetta un attimo ma cosa sto dicendo cosa sto leggendo cosa sto pensando ecco questa è la grandezza storia di verga poi ci sarà di tutto perché poi descrive come il padre morto descrive soprattutto una serie di robe che a noi appare naturale ma se riusciamo a uscire in un attimo diciamo ma che stanno facendo questi ma come si può vivere così e io spero che riusciamo a fare quel passo indietro a dire come si può vivere così perché altrimenti vuol dire che se ci sembra tutto giusto vi stiamo vivendo come sta vivendo sta gente e è tutto scritto in una maniera cruda in una maniera diretta in una maniera violenta talmente violenta cruda e diretta che che io questo racconto secondo me delle sfumature horror ha delle sfumature dell'orrore ci sono certi punti che non vi anticipo ne parliamo assieme poi eventualmente dopo averlo letto che veramente starebbero benissimi in un film dell'orrore e visto che tutti dicono all'orrore mi piace ecco leggetelo come un racconto dell'orrore e pensate che questo orrore era la vita quotidiana di tutta una serie di persone di un gran numero di persone e verga ci catapulta lì dentro ci fa vivere lì dentro ci fa sentire lì dentro io penso di avere già detto abbastanza invito quindi tutti i miei studenti dovranno fare per forza ovviamente provano gli esercizi ma scriverò tutto quanto poi sulla nostra piattaforma online e anche gli eventuali curiosi che stanno seguendo questa puntata andatevelo a ripescare perché perché secondo me a parte che appunto è gratis è tutto quanto presente online verga andatevi a leggere rosso mal pelo ditemi anche voi nei commenti su speaker su youtube su facebook cosa ne pensate se vi va di provare questa cosa che verga non sia solo quella roba che si legge a scuola appunto perché sì vabbè si dà a scuola verga un grandissimo grandissimo narratore provate a leggerlo e poi dopo ditemi cosa ne pensate perché dico questo perché io sono il primo che verga l'ha recuperato da poco da quando ho ripreso a insegnare e per ogni volta che lo leggo dico mamma mia questo quanto scrive bene lo dico per quasi tutti quelli che studiamo a scuola lo so perfettamente però li studiamo a scuola perché sono veramente dei grandissimi autori va bene io penso di avere già detto abbastanza tanto i miei studenti sanno perfettamente che se c'è qualcosa che non è chiaro mi scrivono e io di solito mi scrivono su via mail e io di solito rispondo abbastanza velocemente come spero tutti quanti o mai si siano accorti grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato oggi due lezioni abbastanza veloci ma perché insomma appunto sono diciamo così lezioni introduttive per per qualcosa che poi i miei studenti espanderanno a scuola però spero appunto anche in quelli che non sono miei studenti di avere smosso un po di curiosità verso quest'autore andate a ripescarlo andate a perché secondo me assolutamente merita grazie a tutti vi saluto con la sigla grazie a tutti